Assessore, una firma importante, un contratto con Trenitalia, di cosa si tratta? Quali sono i dettagli? Si tratta della firma sul contratto i cui effetti sono in vigore dall'inizio di questo anno. Il cosiddetto contratto ponte di sei anni, prorogabili eventualmente di altri tre, come da normativa europea, prevede importanti novità rispetto al vecchio contratto, in termini di standard di qualità, che sono ovviamente migliorati. Si tratta di standard relativi alla puntualità, alla diminuzione della soppressione dei treni, alla pulizia, a tutti quei requisiti che riguardano una migliore possibilità e qualità di viaggio da parte di chi prenderà il treno in Toscana. Ma la vera novità sta nel fatto che rispetto all'accordo che avevamo fatto per eliminare alla firma di questo contratto, ci sono molti investimenti in più, molti treni nuovi in più. Noi eravamo partiti con l'intesa nel 2014 che prevedeva 86 milioni di nuovi investimenti, siamo poi passati ad un accordo nella primavera di quest'anno che ne prevedevano 170, in realtà i nuovi investimenti saranno 290 milioni. Significano 27 treni in più che ci consentiranno di completare la dotazione della flotta dei Vivalto, con 4 nuove composizioni che vedranno il completamento della flotta dei treni diesel per le linee non elettrificate con 13 nuovi treni e vedranno anche l'aumento della flotta dei jets e l'arrivo di 4 nuovi elettrotreni, proprio quelli frutto dell'ultima gara che Ferrovie ha fatto e che è stata vinta da Itachi. In più molta attenzione per quanto riguarda la sicurezza, insomma direi che andiamo davvero verso quell'indirizzo strategico che la Regione si è data per quella che abbiamo definito la cura del ferro, vale a dire un servizio che si basa molto anche su treni rinnovati per avere maggiore efficienza, maggiore comfort e maggiore qualità per andare verso una mobilità sostenibile che sia in grado di poter fare a meno dell'auto. Su questo la Regione sta lavorando non soltanto sulla parte ferro ma anche con la gara sulla gomma che prevede il rinnovo dell'80% della flotta con forti investimenti per quanto riguarda l'utilizzo della bicicletta e una forte integrazione modale di tutte e tre queste modalità di trasporto. Maggiore informazione, integrazione dei titoli di viaggio, insomma standard che ci avvicinano e ci faranno andare verso quelle che sono le migliori performance che abbiamo in Europa.